Ciao a tutti ragazzi, sono Supervisor e benvenuti in quest'ultimo video di oggi, come potete vedere siamo su Survival Games 4 di MC Game, era appunto che stiamo facendo un survival game per appunto incominciare una serie, quello ha il fungo di PewDiePie voglio incominciare appunto una serie ovvero parlare di un topic che nel frattempo che faccio un survival games questo perché appunto, oltre che lo fanno tantissimi youtuber, porta tantissime visualizzazioni di tanti mi piace, perché appunto la gente, per quanto ne ho capito, piacciono queste cose e quindi appunto voglio fare in questo modo quindi vorrei che scriveste in chat slash, ah sì, slash, hashtag topic e poi il topic che volete che io parli posso essere tutto quello che volete, ovviamente prenderò i topic che a me piaceranno oppure quelli che saranno più mi piace appunto vi consiglio anche di mettere mi piace ai topic che fa altra gente e commenta così almeno mi potete dare una mano su quale scegliere ma oltre a questo, appunto voglio incominciare questa serie perché mi aiuta a imparare appunto a commentare bene perché effettivamente io non è che commenti così tanto nei video ma per di più faccio solo editing e quindi principalmente appunto è solamente per perfezionarmi oltre al fatto di portare anche una nuova serie nel canale oltre che anche se già la sto continuando però soprattutto è per il fatto che rendo partecipi voi e soprattutto caso mai se avete un canale vi sponsorizzo anche essendo che vi metto il commento in descrizione cioè in descrizione in insomma impressione nel video e quindi nulla principalmente nulla allora vediamo qua ok mamma mia siccome si abbastanza bene tranne per l'armatura che praticamente non abbiamo nulla saliamo allora andiamo verso il treno ora come potete vedere non ho nessun topic da qui da parlare appunto perché appunto aspetto che mi date voi il topic appunto di cosa parlare ma parlo direttamente appunto di questa cosa di questa novità che voglio portare appunto nel canale nient'altro principalmente poi ovviamente il video se esce male oppure se muoio subito vedrò io se o tagliare la parte oppure fare più cazzo questa storia oh mio dio l'ho ucciso oh mio dio l'ho ucciso no va bene basta io sono così eccitato perché effettivamente non è che sei così tanto bravo nei survival games è già killare uno che aveva il space in ferro più essere meglio me essere messo meglio di me come armatura è già una cosa bellissima non fateci caso quando esulto così comunque stavo dicendo anche se non esce un video bello oppure muoio subito però faccio un ben commentary lo metterò appunto lo stesso nel canale perché soprattutto quello che a me più interessa di questa serie è il commentary appunto perfezionare i sui commentary perché come ho detto prima nulla in sostanza poi principalmente se ovviamente la serie vi piace vedrò di mettere tipo qualche limite di mi piace appunto 20 mi piace il nuovo video ma essendo che ne faccio a malapena 15 vorrei che appunto a 15 mi piace faccio il prossimo episodio di survival games se questa serie vi piace ma soprattutto se siete d'accordo sul fatto di fare appunto hashtag topic quando gioco nei survival games così appunto dobbiamo mettere un buon commentary e soprattutto di parlare a tutti voi c'è uno qua ah no cazzo però io non ho frecce va bene sti cazzi a dire verità questa cosa me l'ha consigliata un mio amico ovvero Jamborn che è davvero un grande sul fatto di il pvp e sui survival games appunto vi invito a seguirlo trovate il suo canale in descrizione questo perché lo ringrazio tantissimo per il supporto ma soprattutto per i consigli che mi ha dato sul fatto di fare appunto questo tipo di video perché attacca molto al al pubblico il fatto che tu da youtuber rispondi a tutto quello che ti chiede il pubblico quindi a me piace tantissimo questo fatto appunto lo ringrazio per appunto per questo nulla passate sul suo canale perché fa davvero bei video a volte edita davvero davvero molto bene ma soprattutto commenta che manco Dio potrebbe fare quindi vi consiglio appunto di andare nel suo canale poi ovviamente non farò mica solo SG ma caso mai farò solamente due episodi a settimane di survival games da così almeno portelli avanti ma soprattutto commentare subito i vostri topic che mi darete in futuro allora ho un fottio di roba io per di più mi dovrei aggiustare l'inventario perché effettivamente qualunque pvp player dovrebbe fare sistemarsi già da prima l'inventario perché poi appena di doversi che fare qualcosa oppure non lo so qualunque cosa poi muori e quindi evito di fare casini metto il pane qua essendo che da di più ok possiamo scendere ti pareva che scendavo da quella parte ovviamente guarda c'è una chest allora per ora non ho trovato nessun player non so per quale motivo non ho trovato nessun player però eccolo 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 oh cazzo ma cosa ma cosa ah vabbè stanno in team che piazzi di merda che palle ti giuro allora comunque ovviamente se io mi metterò a parlare appunto di un commentary lo faccio anche bene ovviamente non ci vuole niente a capire che se parlo bene di un commentary ci sarà poco editing pochi tagli soprattutto quindi sarà abbastanza normale perché effettivamente quando tu parli troppo non c'è nulla da tagliare ma soprattutto caso mai taglio se effettivamente ok ora vediamo se riesco a fotterli a questi qua ok me ne devo andare ok va bene loro si fottono solo le frecce quindi è abbastanza inutile come cosa ok se stanno andando io li faccio andare non faccio altro ovviamente dico qualche taglio ci sta quando tipo che ne sono non mi viene nulla da dire ovviamente taglio lo faccio oppure se in una parte noiosa taglio lo faccio ma non quando proprio lo faccio tantissime parti come faccio di solito in tutti quasi i miei video perché io ho dito davvero tanto ma appunto qua stiamo parlando in un commentary e quindi non taglierò completamente nulla ok vediamo se posso andare allo suono a captarmi le frecce non ho preso danno come cazzo ho fatto a non prendere danno io non manco io lo so va bene andiamo in queste due giornate ovvero il 27 e il 28 praticamente mi sto mettendo a sfornare un fottio di video perché se mi c'è fatto perché appunto mi servono per riempire le giornate di vacanze perché praticamente voi ve lo spiego appunto nel vlog chi è che sta morendo sempre oh cazzo da là ok 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 allora questo devo farlo bene questo lo devo uccidere bene ok vieni qua vieni qua un pezzo di merda vieni vieni io ho anche il 2 gapple sti cazzi guarda guarda boom uuuu take this bitch guarda chi c'è là forse è quel tipo che mi seguiva prima probabilmente ho 3 gapple wow quindi probabilmente spero di vincerla questa io di oggetti poi gli avrò tolto un fottio di cuore cosa è in mano vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni boom vinto ragazzi finisco con un finale assurdo spero che il video vi sia piaciuto appunto come ho detto prima vi invito ad iscrivere hashtag topic e dammi appunto un argomento a riguardo che volete che io parli nel prossimo video quindi vi prego di lasciare almeno 15 mi piace se vogliamo arrivare appunto per il prossimo episodio lasciate dei commenti seguitemi nella pagina facebook per sapere appunto aggiornamenti riguardo al canale mi scrivete per il canale se non te lo avete passato e via ciao 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 ciao